La città di Agropoli alla BIT, Borsa internazionale del turismo a Milano, che ha preso il via nella mattinata di ieri, domenica 11 febbraio, e si concluderà nel pomeriggio di martedì 12 febbraio. Dal 1980 si rappresenta uno degli appuntamenti più attese importanti del mondo del turismo internazionale. Questi numeri dello scorso anno, 46.000 visitatori provenienti da 120 paesi, 1.300 espositori da 72 paesi, 1.500 buyers, oltre 2.000 giornalisti provenienti da 36 paesi. E quest'anno si attendono numeri ancora più importanti. Al classico turismo si affiancano anche spazi dedicati all'enogastronomia e al wedding. La città di Agropoli è presente alla BIT, in collaborazione con l'associazione turistica Cilentomania, che possiede un desk all'interno dello stand della regione Campania. Agli occasioni importanti non manchiamo mai, afferma il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. E quella della BIT di Milano è una di quelle. Un appuntamento importante per far conoscere e promuovere le bellezze e le peculiarità di Agropoli, porta del Cilento. Gli eventi che organizziamo lungo tutto il corso dell'anno. Una vetrina che permette l'incontro con tour operator, dialoghi che possono poi trasformarsi in rapporti di collaborazione con gli stessi e con le agenzie viaggi, finalizzate all'incoming verso la nostra città. Qui a Milano c'è fermento, si lavora tanto, stiamo comunque cercando di portare risultati a casa in merito a quello che è un discorso di promozione del territorio. I numeri ancora non li abbiamo, nel senso che non sappiamo se si mantengono i numeri dell'anno scorso, se c'è qualche crescita o qualche flessione. Fatto sta che comunque c'è fermento, la gente gira, i contatti sono abbastanza importanti. Poi aspettiamo di capire come si chiuderà questo momento fieristico.